Temptation Island è ormai finito e le coppie sono ritornate sui social Lino e Alessia sono i protagonisti più chiacchierati, è ritorno di fiamma? Non ci sono dubbi, Temptation Island è il programma più amato e seguito dell'estate Anche quest'anno il riscontro è stato eccellente e tutta la produzione non potrebbe essere più felice Al timone Filippo Bisciglia, il conduttore che da anni regala al pubblico, puntate esilaranti Quest'anno le coppie protagoniste, hanno deliziato i telespettatori con colpi di scena travolgenti Tra tanti sono state scelte, Martina e Raul, Vittoria e Alex, Cristian e Ludovica, Luca e Gaia, Jenny e Tony e Alessia e Lino Questi ultimi sono stati i più chiacchierati in assoluto, la loro relazione tormentata ha attirato l'attenzione dei fan Temptation Island, Alessia e Lino di nuovo insieme? Spunta la foto Alessia ha deciso di iscriversi al programma per poter mettere alla prova la sua relazione con Lino Quest'ultimo le ha mancato di rispetto, causandole non poche insicurezze Subito dopo il loro ingresso all'interno dei villaggi, Lino ha instaurato un feeling con la single Maika Un comportamento che ha scatenato la rabbia di Alessia, spingendola a chiedere subito il falò di confronto Sono state ben quattro le richieste prima che Lino accettasse Alla quinta i due hanno avuto uno scontro molto acceso Dopo un doppio incontro, i due hanno lasciato il villaggio da separati Finite le puntate, tutte le coppie sono ritornate sui social e da alcune condivisioni Sembrerebbe che Lino stia frequentando Maika mentre Alessia, è pronta a godersi la sua vita da single Dal profilo social di Deyanira Marzano, è spuntata una clamorosa indiscrezione A quanto pare ieri sera Alessia e Lino, si trovavano nello stesso locale Con loro anche Jenny e Tony, cosa sta succedendo? Maika ha condiviso alcune frecciatine, probabilmente mirate proprio a loro due Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Nelle settimane precedenti, si è parlato di una possibile partecipazione della coppia al grande fratello Insieme a loro anche la tenatrice Maika, sarà che Alfonso Signorini vuole replicare il triangolo Mirko, Perla e Greta? Chissà se dietro a questi continui scontri e incontri non si nasconda qualche piano strategico Quando si decide di partecipare ad un programma così esposto, si è consapevoli che i riflettori e l'attenzione mediatica, attireranno l'attenzione dei fan per diverso tempo La vera sfida sta poi nel riuscire a preservare e innalzare questa popolarità Alessia e Lino sono complici di un piano ben preciso C'è da dire che i due non smettono di lanciarsi freccatine e offese sui social Un sentimento molto tormentato, al momento esposto su tutti i social Un sentimento molto più